Londra ci scherza su. Donald Trump cancella la sua visita a Londra perciò non gradisce la nuova sede dell'ambasciata americana ma lo humor inglese non perde l'occasione. Il museo Madame Tussauds ha piazzato la sua statua di cera che raffigura il tycoon davanti all'edificio della sede diplomatica. Cravatta rossa, giacca blu, camicia bianca e inconfondibile ciuffo biondo di capelli. Trump ha cancellato la sua visita e cos siamo intervenuti noi. Stata certamente una sorpresa per i lavoratori dell'ambasciata. Hanno twittato dal museo. In effetti, intorno alla statua ha stato un susseguirsi di selfie dei passanti ed interviste improbabili al Trump di cera.